Presidente, oggi ci sono le proposte della provincia di Chieti per quanto riguarda i fondi del Recovery Plan, come potrebbero e come potranno essere spesi. La provincia di Chieti cosa dice? Abbiamo fatto un ottimo lavoro e devo ringraziare la struttura dirigenziale e tutti i funzionari e collaboratori dei dirigenti perché abbiamo impaginato una serie di progetti che noi abbiamo inviato alla Regione e al Ministero perché noi abbiamo dei compiti. I compiti sono la viabilità, sono quelli dell'edilizia scolastica, della mobilità sostenibile e poi avendo anche una società come l'OPS che si interessa di informatica, anche la transizione digitale. Questo è un aspetto importante della mobilità sostenibile con la Via Verde. Quindi abbiamo impaginato diversi progetti, questo è il faldone che è enorme perché non vi voglio annoiare, che noi abbiamo voluto presentare proprio perché la provincia in questa fase così complicata di transizione anche amministrativa può recuperare quel ruolo fondamentale che serve al territorio. Abbiamo inquadrato ovviamente coordinandoci anche con la Regione per alcune opere strategiche sulla viabilità soprattutto sull'edilizia scolastica che è quella carente su cui noi dobbiamo puntare sia efficientamente su quello che poi è l'adeguamento sismico e la nuova costruzione di scuole. Questo è il libro dei sogni, diciamolo francamente ai nostri cittadini perché il recovery plan ci ha invitato a ragionare alla grande perché invece le amministrazioni, quello comunale e provinciale ragionano sempre in condizioni di sofferenza di fondi. E' chiaro che non tutto quello che noi abbiamo chiesto potrà essere diciamo approvato ma il concetto era quello intanto noi abbiamo fatto una ricognizione e quindi una strategia di programmazione che servirà per i prossimi anni. Ora se il recovery plan come noi speriamo possa dare fondi sui nostri progetti allora anticiperemo quelle che sono le nostre progettualità.